Il lavoro come opportunità di sviluppo Il lavoro, unica possibilità per garantire futuro integrazione Il futuro delle marche sta nel lavoro di qualità, l'Italia si cura con il lavoro Il futuro delle marche sta nel raffortamento delle reti di welfare, l'Italia si cura con il lavoro Il futuro delle marche sta nello sviluppo sostenibile, l'Italia si cura con il lavoro Grazie 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 Grazie